LUKE 4316 Hello boy hello girl my name is LUKE4316 and I'm spiked in English because I want to see you a game a game that speaks about shooting or killing something and I'm a little bit like I'm oh yeah and the map carrier and class personalized for and pistol in, pistol in pum 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 ammazziamo la gente uccisione confermate and and tenemo che matar algo and oh yeah 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 and good game, good game GG for you and I m'ha matato m'ha matato da dietro da 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 back back dietro and caduto un inter aqui caduto un inter raccogliamo medalliette and senza morir perchè la medalliette da 100 pun 100 pun 100 pun oh yeah and kill and I he ha matato algo ha matato un soldate uccisione confermate and juego in italiano and io I'm multilinguage 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 and io poco ma io ho cinesi bulgarese torinese tutte le lingue che conosco e quello lì che lì che lì sopra la airplane e e quando uno muore quando uno muore rinace rinace perchè e e e e e e per matar altra gente diciamo diciamo e e un buono un buono e si si e e e camper e perché se nasconde dentro le cose e e e quante gente e mi ha sparato e mi ha ucciso e i i i i in est game perchè i no pro pro chiedere chiedere i no pro io io juego por divertirmi e non por essere pro appunto perché e che li sdraiet 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 oh che questo cos l'air plane air and spar air spar perchè è qualcuno dell'or degli avversari e e ancora air spire e e e oh uccisione confermata and fetch kill and praise la medaglietta perchè por doppio punto perchè quando tu ammetti accid qualcuno ti becca doppio punto guarda chi che schi che schi è un camper and camper uè camper è morto lo camper vedete che loro si proprio si sdraien si nasconde e and e o quante camper i cd tante camper io ma tutto camper and cartoffen proprio tè tesco io parlo pur tè tesco and io ma tutto lo camper e altri camper oh quante campeggi oh iè 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 medaglietta noi ci sdraienmo e camminiamo così in modo che la gente non ci vede è passata e noi prendiamo la medaglietta ok e gg gg for you gg e amico mi che vende il kebab mio amico vende il kebab e oh allì all'interno e sta un camper anche chi sta un camper e chi trovi il camper camper mi matè mi matè il camper and loro tangan proprio tangan it's the pipe tuttel english inglesico loro tangan lo campeggio lo campeggio perché tante camper proprio vivono e dentro lo campeggio proprio dentro il wagon e vanno in giro proprio a campeggio vanno in campeggio e il campeggio and for you perché nascono le camper le camper and call of duty black ops 2 oh camper killed e and outro camper ah kill aid me proprio kill aid me e ah and non mostrate un'altra cosa che si può fare con call of duty black ops 2 and lanciar lanciar le tampax and english vuol dire no tampax quelle che usano le donne quando tannan tannan le loro cose ma proprio tampax che fa pum mirar mirar la granate pum lo tampax è scoppiato proprio quella è la granate la granate si può lanciare le granate le ghiacciole le gelate tante cose proprio mir de merd merd proprio in franchise perché io ho anche un franchise in frasul e guarda che schi guarda che schi che mir de merd che tiene e e parliamo un po' di l'uchoc l'uchoc parliamo del black ops 2 della 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 seg della seg non della seg come si fa le seg ma proprio della saga call of duty black ops 2 e un po' di tempo fa uscì il black ops 1 e schi è black ops 2 la la continue continue fine e mmm este map piccoline piccoline map e proprio po' camper e tutte fatte di helicopter e air air helicotter proprio un parcais un parcais di air mmm si 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 e un buon game proprio un bel bel game ah qui c'è un camper un camper noi siamo insieme il camper boom scappiato la granite e ora li lanciamo un gelato no ce l'ha un raid e e quando uno fa tante call tante kill quando uno proprio ace tante kill vengono delle cose che si chiamano e come si possono chiamare in english si possono chiamare recompense recompense e tre kill quattro kill quink kill proprio recompense e uovo e uovo uovo in italiano e e drone da take e air da compagniai air da bombardment tutte recompense e torret la torret è oltre recompense ed fa tante call e uovo 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 dopo l'altra oh chi sta qualche d'uno e lancio ciao no che lì che lì siamo attenti da solo e io come un chess me sono attenti insieme a esse e e che puoi dire in english oh qui sta il radar e camper e la casaite and su su and go top e case stav nu camper ah otro camper e in fund e sparer ah si o perlomen far troppo morto non conviene non conviene far troppo morto perchè aqui sta il classific vedete la prima squadra 56 e 5 6 punti e seconda squadra 53 punti siamo quasi vicini vicini io stai facendo 2000 punti e 28 3 e questo video questo video è accetto in molti linguaggi proprio perchè molto molti straniere guardano le mie video allora io parlo anche in come si dice in Brasileiro Brasileiro perchè perchè io parlo Brasileiro Spagnolo Francese Franchise Tetesco Rumegnolo Albinace Torinese le Fese le Fese tante lingue tante lingue in tante braccia e vediamo sta scadendo il tempo senta un tic tic e spagnolo tutto l'inglese perchè è proprio madrelingua madrelingua e padre famiglia e è morto sulla scala in 8 la scala in 8 e e mi stanno sparando che mi ha sparato e io sparo a lui io sa io sa che è mio amico 5 7 6 5 and no 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 you and la kill final beh good 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 oh yeah good kill yeah gg for you and not gg for you perchè avem perso da luke 4316 and tut goodbye hello hello kitty ne vediamo in un prossimo video da luke and blackhopes2 and tut ciao a tutti